Buongiorno, allora come va? Avete già aperto la calza? Io spero di sì, spero che ci siano tanti dolci per voi. Oggi forse la bilancia a due stelle con questa luna dissonante può sentire il sapore dolce con un retrogusto amaro, può darsi, ma questo dipende molto dal tipo di relazioni che state vivendo, perché sappiamo che a livello astrologico è stato soprattutto il mese di dicembre ad aver portato qualche piccolo dubbio, quindi mi riferisco ai nati bilancia che magari a Natale o a Capodanno per vari motivi, o in quel periodo, hanno vissuto delle piccole malinconie. Voi siete il segno della pazienza, della tolleranza e della diplomazia e quindi riuscite anche a fare buon viso a cattivo gioco se vi va. Se però questo sforzo è diventato inumano, nel senso che comunque poi gli altri si approfittano anche della vostra buona volontà, è normale che chiudiate le porte. Quindi ci sono delle giornate in cui magari vi va di stare un po' di più per conto vostro. E questa è un'epifemia, diciamo così, di riflessione. Anche l'Ariete, due stelle, oggi ha una luna dissonante, Venere però non è più contraria come lo è stata a dicembre. Allora, molti mi dicono, ma quando un pianeta è contrario sto male, quando invece un pianeta è buono sto bene, no, non funziona così. Quando abbiamo un cielo di provocazioni, e anche un po' conflittuale a livello astrologico, noi sentiamo la necessità di mettere in chiaro delle cose. Quindi che succede? Molto probabilmente a dicembre tutti gli Ariete che avevano qualche dubbio in amore lo hanno espresso. Allora, chi sta con la persona giusta e ha un buon rapporto con chi ama avrà chiarito, ma chi per anni, mesi, magari, ha dovuto sopportare delle tensioni e non è riuscito a trovare un accordo con il partner è ancora un po' sotto pressione. E questo potrebbe essere, come discorso, anche allargato ai parenti, agli amici. Quindi l'Ariete lo trovo un po' in battaglia in questo momento. Andiamo al Capricorno, tre stelle, una pausa di relax. Nulla a che vedere con positività, negatività, noi siamo sempre positivi, per me la negatività non esiste. Esiste semplicemente l'atteggiamento che noi vogliamo avere nella vita. Siccome il Capricorno è un propositivo, è uno che non si arrende mai, è chiaro che alla fine vince. E vincerete da marzo, e vincerete da maggio con queste grandi stelle. Però la giornata di relax ci vuole per tutti. In particolare se avete un'attività di responsabilità, se tutti vi tirano per la giacchetta, se comunque in famiglia siete sempre quelli che devono in qualche modo decidere. Il Capricorno, quante volte l'ho detto, preferisce decidere da solo. Ma non perché sia un pazzo egocentrico, ma perché sa che se gli altri sbagliano poi deve correre a riparare in prima persona le cose che non vanno. Allora dice faccio tutto io, così almeno mi stanco una volta sola e non due. Andiamo al segno zodiacale dei gemelli. Molto interessante venere, per il resto è un oroscopo silenzioso. Cosa vuol dire? Che questo è un mese, gennaio in generale, e anche questa è una giornata che segue il corso, che rappresenta in qualche modo la vostra capacità di amare. Quindi in qualche modo se c'è una persona che vi piace dovreste parlare. E se ci sono degli amici con cui volete condividere qualcosa di bello, non dovete tirarvi indietro. Ma per quanto riguarda lavoro, decisioni, è tutto in, diciamo, stand by. Cioè in pausa. Evidentemente certe risposte, certe questioni non si sbloccano prima di primavera. Ma voi state lavorando affinché qualcosa si muova a favore. Andiamo al segno zodiacale del cancro. La luna nel segno raddoppia la vostra passione, raddoppia anche la vostra sensibilità. E quando i cancro sono estremamente sensibili, diventano anche un pochino irascibili. Quindi la prima cosa che bisogna fare oggi è cercare di farsi scivolare addosso tutte le tensioni. E poi io vi auguro che abbiate al vostro fianco una persona carina, positiva, perché ne avete davvero diritto, visto che avete dato tanto agli altri. Siete un po' corrucciati, forse un po' tristi, perché... Tristi, forse una parola grossa. Comunque preoccupati, ecco. Perché a dicembre non proprio tutto è andato come avreste voluto, anche sul lavoro. Andiamo alle stelle del toro, che sono ben quattro. E rischiano, tra virgolette, di aumentare via via che ci avviciniamo alla primavera inoltrata. Anzi, questo cielo è importante. Tra i segni più forti del 2023 c'è il segno del toro. Quindi a questo punto fate il vostro gioco. È chiaro che vincerà il toro più propositivo, vincerà la persona che ha le idee più chiare, no? Però una spinta in più arriva. E come salire sul palcoscenico? Si apre il sipario, l'oroscopo ti dice Toro, fammi vedere quello che sai fare. Voi cosa sapete fare? Eh, tante cose. Anna lo dimostra tutti i giorni. E voi che siete a casa, sicuramente tanto, tanto amore arriva grazie a queste stelle. Quattro stelle per il signo zodiacale della Vergine. Bene, una bella luna. Una buona indicazione anche per quanto riguarda l'immediato futuro, con un febbraio che può darvi delle soluzioni anche dal punto di vista lavorativo. Certo, arriverà a Saturno opposto. Molti mi chiedono che vuol dire, che succede? Niente, innanzitutto non vi preoccupate. Saturno in opposizione rappresenta un cambio di passo. Tutto qui. Quindi il fatto che magari certe situazioni che appesantiscono, che magari avete portato anche avanti per anni, non sono più importanti. Noi abbiamo sempre paura dei cambiamenti e forse i nati Vergine un po' di più, perché essendo segni di terra vogliono camminare, diciamo, su un pavimento solido. Però sono proprio i cambiamenti il sale della vita, perché altrimenti faremo sempre le solite cose. Anche voi che amate, diciamo, ripetervi in qualche modo per paura di cadere in errore, troverete molto più saggio orientarvi altrove. Ne parlerò presto. Quattro stelle per il Sagittario. Beh, questo cielo si avvia verso un fine settimana importante. È vero l'epifania, ma guardiamo anche le giornate di sabato e domenica. Mi piace molto la giornata di domenica per voi. Sono convinto che ci sarà anche una bella emozione. Se avete vissuto un momento no a settembre, quello era un mese un po' pesante per il lavoro, già da dicembre si è mosso qualcosa e con l'aiuto di persone care potrete fare di più. Favoriti anche quelli che lavorano con il partner o che vogliono formare delle società. Quattro stelle per il leone. Sì, è vero che questo dicembre è iniziato in maniera proprio un po' strana. Forse voi ce l'avete anche con una persona. Attenzione nei rapporti con lo scorpione, attenzione nei rapporti con l'acquario, anche con il toro, gli altri segni fissi che in qualche modo ogni tanto vi lanciano delle frecciatine. Voi siete molto forti, ma in questi giorni rischiate di apparire agli occhi degli altri un po' prepotenti. Questo cielo vi aiuta e domenica baci e carezze. Andiamo al segno dei pesci, 5 stelle. Questo cielo è ottimo, oggi abbiamo una luna importante. Vi siete veramente comportati bene negli ultimi mesi e avete ritrovato una grande forza, una grande energia. C'è ancora da sanare un piccolo problema con il fisico, quindi chi è stato male, chi ha avuto una difficoltà, deve aspettare un po' prima che tutto passi. Però l'importante è che anche un piccolo problema sia stato affrontato, definitivamente una volta per tutte. Acquario, fine settimana importante, anzi vi dico oggi, domani, il cielo bacia gli acquario e speriamo che gli acquario bacino parecchio perché con venere nel segno questo è un oroscopo importante. Quindi bene nelle relazioni, bene negli incontri, ma direi addirittura anche bene sul lavoro, lo vedremo molto presto. Lo scorpione, bello questo cielo oggi e domani, domenica un pochino sotto tono, però in generale meritate 5 stelle di forza proprio per la vostra capacità di essere molto tosti nei vostri ragionamenti e sinceri. Quindi se un qualcosa non va in amore sarà meglio parlare tra oggi e domani. Piovono carezze, mi auguro anche per voi baci, questo fine settimana è molto intenso. Vi abbraccio.